ciao amici di youtube che vuoi lasciare come oggi ragazzi siamo in un nuovo video oggi è Pasquetta spero avete passato una buona Pasqua, Pasquetta, Casanella, fama, pastiere, pizzachiera, avete mangiato di tutto lo so ragazzi oggi si gioca a Napoli-Roma siamo qui in questa nuova live action in compagnia di mio fratello Cristiano in compagnia di mio cugino Daniele in compagnia di mio padre Frango non mandare un brevo io oggi c'è il magno scaricate OneFootball lo trovate nel primo link in descrizione il miglior app scarica il mondo del calcio potete guardare anche gli rights di Napoli-Roma dopo la partita gli rights di Serie B, le partite di Serie C di tutto e di più partite anche di altri campionati in diretta quindi io vi invito a scaricare questa a tante novità la trovate gratis nel primo link in descrizione detto questo forza dai 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 Napoli dai 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 fai vanno a rivedere è il rigore né non lo so è il rigore netto e rosso di blocca all'azione che rigore passata di anni giusto anche a brega di a breve ha già capito ma io non lo so ma non è il rigore questo scusate boom dai si è il rigore e vi non ci ciò per fischio ricorda andiamo 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 si può andare per di me lo insigne contro lui patrice vai una moto un cazio tre moto un casco ti stavi più accuntando la a cussi non è naso vero forte ma sono fallosi sono fallosi un piano di rendita sono voglia di nuovo guarda la buona sogno nostro di comprare su youtube insieme a sciale ciala e boom guarda la buona volta guarda l'istante di nuovo fratello che c'è avuto il giallo poi il popolo che non è così da non tempo non tempo a nasci a miseria essi più concentrati e vogliono combattere ancora in testo ancora a tempo ragazzi finisce il primo tempo un anziano napoli insigne sul rigore c'era solo e concentrazione inizia solo tempo bella partì maronna mia birthday mannaccia mannaccia Oh no ma signora ma signora ma fai gol! Fallo! Ma non è fano questo ehm Eh ma non si sta! Ma non ne ho l'ho chiesato più ... ma non si sta con lo fai! Prima no! Prima no! Ma che credi? Che credi? Nella munizione! Ma chi ha i video il cano? Ma ci! Ma che ammulige?! ma non c'è c'è vero ciccio ma ma fa ma si sembra cato mamma mia mario lui donna san mario lui non sono genato male è malissimo perché va passano bene da rish ma rossa il centro barbara scopo il bambino si fa male che si è zubato centro camp no uscire ma devi uscire prima ma cosa volete ma cosa volete ma che vuole ma che vuole ma che vuole ma cacciari fuori ma vada al pub fuori ma andate fuori sto scemo ma che ne è brea vada ma io sto rivolto vada 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 fira ma otto minuto minuti che ho si è un po' non c'è! non nemmeno che il mio colore non lo fa! non nemmeno, non nemmeno fatti 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 signoro! tanti fatti fatti signoro! ma tass- mettassata la serba! ma cosa stai faccio? ma come si fa? ma come si fa? non lo so non lo so mi ha mai mai spastriare basta si scrucciare stu cazz basta ma va da che non si vieni che cammina ma non doveva entrare guardate rischio perché 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 dormiamo se rischi dorme non le volete vincere con sole zero primo frati 10 gol non le volete vincere ma come sanno qua non c'è trova a bocci unice è il massa di ciò di poterla che il massimo avrò mai impidrato da merda ha impidrato da merda da merda quello fanno il fanno per massimo di scritto tutt'occhio che c'è bello fischia tre volte di bello uno a uno alla maratona in napoli ha scappato con il regore di insigne ma la romà lo ha ripreso con un gran secondo tempo con i gol al minuto numero 91 10 a raul e il chiarimento ulteriore tra maurinio e valvino premio da scuola e poi non ha morto e non voglio la partita la partita su giuro prima te la partita su giuro prima te la spalletto ha sbagliato pure gagne di spalletto ogni tanto capisci manco pazzi fa allora forse c'è la verità lo stimolo come allenatore però ogni tanto sbaglia e quando sbaglia deve pagare sta partita sarà di sera vincito primo tempo 3 0 subito invece no 1 a 0 vabbè stiamo vincendo un po e chi li segna ecco qua che sta a noi ci rimane a ca e a noi ci rimane a ca a noi ci rimane giù scudette basta basta giù di speranze tu non bacca la Roma va bene così va bene abbatterà la fiorentina e la Roma tu non lo fai allora nè la Roma e nè la Roma e nè la Fiorentina ti riesci non dovevi entrare nè i matrazini ti riesci a sfortunato perché si fa male lo so voglio ne la Roma che mi fa la Roma dove andavo la Roma? no io siamo pure sfortunati